Grazie. Il problema di barriera linguistica nei genitori e nelle persone adulte e credo che il mondo del terzo settore delle associazioni possono aiutare molto i cittadini stranieri a superare la barriera linguistica, aiutarli nell'apprendimento della lingua italiana e delle specificità italiane. Io ogni tanto parlo per esempi perché poi aiutano a comprendere. Un giorno mi sono trovato a fare un atto di compraventa di una casa di una coppia egiziana e la signora non diceva una parola, ma non diceva proprio una parola, con il dubbio che non parlasse italiano e quindi mi creava tutta una serie di problemi. A un certo punto dico ma la signora parla italiano e mi è stato risposto con una cosa che poi ho indagato ma in presenza del marito non può parlare. Allora, e questo è un fatto concreto, cioè un fatto di cultura. Qualcuno doveva spiegare a questa persona che purtroppo un notaio deve sapere che entrambe le persone vogliono una certa cosa. Credo che, e ho fatto un esempio, ma in quella comunità mi hanno detto che è diffuso, probabilmente in altre comunità ci sono altre problematiche. Io credo che un ruolo molto importante il terzo settore lo può fare nel favorire il superamento di queste barriere che in parte derivano dalla lingua e in parte derivano ovviamente da tradizioni culturali diverse dalla nostra, ma che se noi dobbiamo comunque vivere tutti assieme e lavorare tutti assieme dobbiamo superare. E qui non è il comune direttamente che può agire e forse non è nemmeno l'impresa privata che può agire, ci va qualcosa che è sulla base del volontariato, sulla base dell'iniziativa di sostegno a risolvere un problema.